Stroncata in pochi giorni da una leucemia fulminante a soli 36 anni, una fine scioccante per i suoi familiari e per l'intera Montebelluna, quella che si è portata via Elena Merlo, dipendente delle grafiche antiche di Crocetta, morta all'ospedale di Castelfranco dove era ricoverata da sole poche ore. Le prime manifestazioni della malattia 15 giorni fa, Elena, in preda improvvisi abbassamenti di vista, si è rappresentata al San Valentino di Montebelluna per accertamenti. Durante il ricovero non erano emersi riscontri preoccupanti, ma una volta tornata a casa, la situazione era peggiorata con una parziale paresi del viso. Un nuovo ricovero, il trasferimento al San Giacomo di Castelfranco. Quindi martedì la situazione è precipitata. Ieri mattina la morte che ha lasciato sgomenti i genitori e il fratello, gli amici e un'intera città. I medici ipotizzano che a stroncarla sia stata una leucemia fulminante. Il funerale sarà celebrato martedì alle 15 in Duomo a Montebelluna.